Il gommone è sporco e macchiato. Neoprene e PVC, oltre ad essere macchiati dallo sporco assorbito, stanno invecchiando e ossidando, diventando brutti e fragili. Grazie alle proprietà uniche e sgrassanti della rinnova plastica RS, puoi pulire al meglio possibile dallo sporco assorbito e rinnovare e mantenere l'elasticità del materiale per evitare che invecchi, si crepi e si rompa. La finitura è asciutta al tatto dopo l'assorbimento con la più lunga durata d'effetto di molti molti mesi. Il prodotto va applicato ad una buona temperatura ambiente con una spugnetta a piccoli tratti per togliere man mano lo sporco prima che si riassorba. Facile, veloce e conveniente con la più lunga durata d'effetto possibile, mai ottenuta prima. RS Black Traction è un prodotto unico e brevettato. Non lo trovi sulle piattaforme come Amazon, però lo puoi ricevere a casa comodamente e acquistarlo sul sito www.blacktraction.com oppure vedere sul sito nella pagina collaborazioni se ci sono rivenditori vicino a te. Grazie a tutti! Ciao! 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 Salare! Ciao!